E ora siamo allo stand Eltron che gioca in casa, più che mai in casa, direttore commerciale di Eltron, Salvatore Luciano. Allora, Salvatore, immagino che tu sarai molto soddisfatto, già si vede la tua faccia. Ma questa manifestazione è davvero incredibile perché è andata forse oltre ogni rosa provisione. Sicuramente è andata oltre le aspettative. Abbiamo avuto un'affluenza che non ci aspettavamo, quindi abbiamo avuto tante 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 presenze sia in fiera che presso il nostro stand Eltron. Il tempo ci ha supportato perché fino a ieri pioveva e c'era tanta attenzione e tanta apprezzione per questa giornata. Fortunatamente è andata tutto per il verso giusto e sta andando per il verso giusto. Io ho detto prima scherzando, mica tanto, e voi giocate in casa perché siamo davanti alla sede dell'Eltron, ma Eltron in campagna e nel meridione d'Italia gioca più che mai in casa. Giochiamo in casa, oggi in particolar modo, visto che la Forus, che è la nostra agenzia di rappresentanza per la campagna, ha scelto come sede per questa bellissima manifestazione la nostra azienda, il nostro sito produttivo. Come ben sai abbiamo tanto da festeggiare anche noi quest'anno, l'azienda è nata nel 74 e quest'anno festeggiamo i nostri 50 anni di attività. Siamo rimasti tra i pochissimi a produrre ancora in Italia sicurezza. Per noi questi eventi, soprattutto con dei grandi brand che spesso li ritroviamo sul mercato, che ci fa solo piacere queste iniziative e abbiamo dato tutto il nostro supporto all'agenzia Forus e facciamo tanti auguri per questi primi dieci anni. Però il tanto di buono che è stato fatto dall'agenzia Forus non avrebbe potuto coronare il proprio successo se le aziende che componevano questa squadra non fossero state di enorme richiamo per gli installatori della zona. Le aziende vengono formate dalle persone. Con l'agenzia Forus abbiamo una grandissima sinergia perché ci ha portato un know-how che in azienda era sempre visto in maniera trasversale. quindi oggi ci affacciamo a un mercato totalmente diverso, a un cliente totalmente diverso e da subito è stata stretta una grande sinergia con tutti gli uomini azienda Iltron che già erano presenti sul mercato come forza vendite. Quindi il tuo consiglio è quello di assolutamente ripetere l'esperienza? Assolutamente sì. Diciamo che queste iniziative fanno sempre bene, fanno bene al mercato, fanno bene agli installatori e fanno bene alle aziende. A Napoli era da tanti anni, forse 18 anni che mancava una fiera. Partecipiamo tanto e spesso a fiere internazionali, fiere di settore. Ecco questa sicuramente ci ha fatto piacere perché giocavamo in casa. Ma è stata una grandissima iniziativa e ha portato veramente tanta, tanta, tanta affluenza. Noi ci siamo trovati in difficoltà per il numero di persone che sono venute, possiamo dire, da progettisti, distributori, rivenditori, installatori, operatori di settore, progettisti, architetti, costruttori, realmente l'agenzia Forus è stata capace di unire tutti, tutta la filiera. Se conosci qualcuno nell'agenzia digli che è stato bravo. Assolutamente sì, in privato.